Bentrovate cari amiche e bentrovati cari amici per un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News, il podcast che il gruppo Rubino dedica al mercato immobiliare del nostro territorio. Io sono Gennaro Delcore e con me c'è il presidente Andrea Rubino. Benvenuto. Bentrovati. Allora oggi parliamo di un tema un po' particolare perché stiamo entrando nella stagione dell'autunno e paradossalmente c'è un dato che ci invoglia a approfondire le vendite, le compravendite degli immobili su Bari. Qual è questo dato? Beh innanzitutto questo su Bari ma credo anche in tutta Italia c'è l'effetto ripresa dopo la pausa estiva, dopo le ferie estive molti compratori che non hanno fatto il tempo a scegliere la propria casa entro luglio chiaramente bloccano tutto e quindi riprendono a settembre. infatti i dati, quelli che sono anche rilevabili dai vari portali, riporta che c'è un 30% in più di clientela che proprio riprende la scelta della propria casa proprio a settembre. Diciamo che il periodo è appena si aprono le scuole. Finite le vacanze si rimettono a fare le cose seri. ma per cambiare casa. Questo è un momento propizio, buono, anche perché c'è tutto un periodo lungo fino a Natale ma comunque a Natale non è che si ferma proprio il mondo, cioè ci sono le vacanze però non è come l'estate dove uno, diciamo, un cliente, si possono fermare per parecchio tempo, per un mesetto, cioè Natale è molto breve quindi diciamo dura una quindicina di giorno. Quindi diciamo chi decide di comprare casa ha dopo tutto il tempo per programmare il traslow, per programmare la stipula entro il gennaio quindi ci sono i mesi buoni. E per questo possiamo dare qualche consiglio a chi invece la vende la casa in questo periodo magari un nuovo set fotografico, nuovi scatti... Eh sì, perché innanzitutto c'è una maggiore luce, settembre ancora si vede molto bene c'è la luce naturale, che diciamo gli immobili si vedono anche, anzi devono vedere con la luce naturale quindi per vedere la luminosità, ma anche c'è un buon clima per poter visitare gli immobili quindi non fa né caldo né freddo, quindi diciamo si possono fare le cose con una massima comodità Può essere un buon sostegno alla vendita anche effettuare dei piccoli lavori in casa, ad esempio ridipingere le pareti? Sì, ecco, quello comporta presentare bene la propria casa quando la si mette in vendita e questi sono accorgimenti che poi dopo sono sfociati anche in una disciplina che comporta tutto quello che può essere l'arredamento, il colore delle stanze Ti riferisci all'home staging immagino? Effettivamente, diciamo l'home staging dove lo si può fare di fatto, cioè facendo questi interventi sulla propria casa anche se non sono facili, certamente sono molto più facili a livello virtuale però è chiaro che se andiamo a riprendere il vecchio detto che anche l'occhio vuole la sua parte beh, è chiaro che la casa la si deve far trovare pronta, soprattutto ordinata e più pulita possibile Una domanda per chiudere questa nostra breve chiacchierata è un bene o un male lasciare degli elementi personali all'interno della casa? cioè far trovare delle foto di famiglia può mettere a disagio chi entra o può fargli immaginare come sarebbe casa sua? beh, noi nel momento in cui abbiamo un incarico di vendita noi usiamo tutti gli strumenti, video, anche foto un ottimo nostro strumento, è uno strumento molto tecnico dove ci permette anche di fare una visita guidata ma con la possibilità anche di misurare le stanze quindi anche per vedere un po' se i mobili vanno o non vanno però è anche importante per noi perché possiamo andare a eliminare alcuni dati sensibili come può essere una fotografia di un bimbo una fotografia dove i proprietari non vogliono perché dobbiamo, si deve conservare sempre privacy totale perfetto, grazie per aver risposto alle nostre domande e al prossimo appuntamento grazie a tutti Grazie a tutti.